La democrazia partecipata è questa, è quella cioè di coinvolgere le persone interessate direttamente alla riqualificazione delle proprie piazze, delle proprie strade e in questa direzione ci siamo mossi rispetto alla questione di Piazza Caduti del Mare che si inserisce in un discorso più ampio, quello di cui siamo molto contenti e cioè il vinto bando per le periferie, i soldi messi da Renzi per dirle in termini chiari ai fini della riqualificazione delle periferie che significa per Pescano una grandissima opportunità, 18 milioni di denaro pubblico che insieme al partenariato col privato sono destinati a sprigionare interventi per un valore di complessivi 58 milioni. Diciamo che i tempi sono brevissimi perché essendo all'interno del programma di riqualificazione delle periferie entro la fine dell'anno secondo alcuni conteggi che abbiamo fatto anche con la presidenza del Consiglio dei Ministri dovremmo presentare il progetto esecutivo, dopodiché l'anno prossimo già potrebbe essere cantierata l'opera. Quindi i tempi sono molto stretti, una risposta veloce in un'area che non è solo questa, sono stati individuati 915 mila euro perché riqualifica non solo la piazza ma anche tutte le aree circostanti e nel Borgo Marino Sud c'è anche la realizzazione del centro sociale per altri 280 mila euro. Lo facciamo con uno strumento peraltro totalmente nuovo perché l'abbiamo fatto anche in passato per lungomare nord o lungomare sud. Adesso lo facciamo con uno strumento particolare diciamo interattivo in cui il cittadino interviene secondo una procedura e dà le proprie indicazioni come vuole che sia realizzato una infrastruttura pubblica.